e la la che sorpresa già col jump pure e beh dopo tanti anni una casa discografica investe sull'uscita di un album che ha prodotto la air music tedesca con il nuovo album del parkour che ha un titolo uguale 1 no 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 uses one insomma è uguale uno di partito le questo queste sono le edizioni che sono uscite sia sul cd standard che cd limitato con il dvd edizione vinile purple colorata e standard edition tutti e due 45 giri stampa audio file che bello posso fare una cosa che sogniamo da ragazzino che posso fare? voglio fare l'uomo sandwich appena volta ho visto allo stadio quando andavo a vedere le partite c'era quella che faceva così no? oddio lo posso fare male dovevo fare il video serio Roberto la nostra credibilità nuovo l'uomo di purple farà felici la vostra famiglia compratelo qui da edf point 1 donne è arrivato il nuovo album dell'uomo di purple ciao stop stop stop